Bella a tutti ragazzi bentornati sul canale del Signor Shady ed eccoci qui tornati con il secondo episodio del nostro grandissimo Snake Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain e ci stiamo inforniando Continuiamo la nostra avventura No, non ci vedo Animali Brutta, brutta Ok No, aspetta, non ho letto No, 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 aspetta, aspetta No, no, non avevo letto Tranquillo Era solo una fase un attimo confusa Eh, diciamo Non è vero Ora puoi camminare e prendi il tasto di costura per rialzarti Che devo fa' mo' Cerca di non farti peccare da quei proiettori Eh, mamma Questi qui Ok Sto andando un attimo Mamma mia No Che devo fare? Non mi si muove No Questo gli ha rotto il culo Scatto L3 Scatta Dove devo andare? Corri Facciamo un altro po' di casino Sergente No 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 Dove? Qua Abbassiamo Queste urla non mi piacciono Da questa parte Ma va scendo prima io, signore È un po' lento Ok Ahia Ci sono dei minchioni sotto Che facciamo? Dove? Oh Oh no Aspettate, aspettate, aspettate Ecco, vedi Questi con una mitragliata Mogliono tutti Facciamoci spazio tra la colla Vai avanti, vai avanti Per culo Beh No, 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 no Via, via 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 Ok, pensavo fossi morto, amico mio Che facciamo? Se qualcuno mi dice dove devo andare e cosa devo fare, lo faccio volentieri No, vabbè Allora, regà, questi sono dei pezzi di merda Partiamo da sto presupposto Perché quello non esce mai appena esco Mo me deve ammazzare E che è? Riprendiamo Già la seconda volta che muoio in questo episodio, eh Non va bene E se io esco subito? No, c'ho paura Dove è entrato lui? Vabbè, ma sei una merda però No, che devo fare? No No Mamma mia, regà Ma chi spara? Alla cieca, proprio Ma se io rompo il culo? Mamma, c'è uno che lo copre Quindi non si va a fare Alla c'è uno che lo copre Ok. Cosa ci dice di fare Se ne vanno? Ciao belli Perfetto Cosa? Negativo Che è venuto qui, continui a guardare Amico mio, questi non se ne vanno Se noi gli rompiamo il culo Ma lui se ne sta andando, cazzo No, 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 no Ok Tanto ragazzi moriremo altre 300 volte Ma sicuro Come il pane Fingiti morto No, no Gli spara No Ma che fa quello? Matto Suicida Amico mio Che famo Si è pesciato sotto Oh no Oh no No, perché ti sei mosso? Ancora bisogna capire chi è Gli ascoltori Oh no Oh madonna mia Ha assorbito una granata Oh wow 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 Haiya Suppongo che debba scattare Oppure no Mamma mia Via via È inutile che gli spari Inutile Acqua Esatto Esatto l'acqua Magari riesce ad assorbire tutto ciò che esplode ma Con l'acqua gli ho butti facile facile al culo Andiamo avanti Azione Lesioni gravi Ok quindi possiamo anche curarci Andiamo avanti signore Andiamo avanti o Vediamo un po' Vorrei un'arma Non lo nascondo Mi sento un po' più sicuro con un'arma Aia Mi ho dato una testata sul culo Oh No che fai oh Chi è morto Ah bravissimo amico mio Io mi nascondo Un po' dove Dove capita C'ho paura Arma? Arma per me? Oh sì Oh sì Oh sì No è Vai per a lui Sì 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 Allora esiste anche la prima persona Mamma mia Quante cose sto scoprendo Oh cazzo Chi è che mi spara? No devo andare via No ragazzi No ragazzi È il gioco dell'anno È il cazzo di gioco dell'anno Come si ricarica? No scusate ragazzi Senti Ok Si ricarica con cerchio Perfetto Ragazzi È Veramente non Compratevelo Se non l'avete comprato Compratelo Mamma mia Non vedo l'ora di giocarlo tutto Vi giuro Woo Woo Grazie a tutti. Come? Perché lo devi fare? Ah, ok. Mamma mia, un grande. Ok, a questo gli possiamo rompere il culo silenziosamente, penso. No, 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 no. No? No, raga. Ma che cazzo? Ma ho finito le cazzo di munizioni? Lo posso ammazzare? Ok. No. Allora, ragazzi, un po'... La situazione... Fa una situazione strana. Chi è che mi spara dietro? Oh! È strunzo. Raga, c'è un problema, però. Non so come... Ok, abbiamo una mini-UG. No. Allora, allora. Oh! 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 Dove vai? Eh no eh Eh no eh Che è qua? Ma che... Madonna Eh ma... Ancora E eccolo La torcia umana Dei fantastici quattro raga Eh no eh Assorbe tutto, tutto. Tutto spesso. Beh, che c'è il progetto? Non, 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 non. Mamma mia Ai 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 Ci siamo sul cazzo vostro entrate Guarda qua Ah ma lui è No no aspetta Ma che schifo Madonna Ideo cosa fa? E splatter proprio Via solito 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 Salvataggio Via solito Via solito Via solito No, è inutile, è inutile Se gli spari non gli fai un cazzo Non gli fai niente Mi finito anche i colpi Eccolo il nostro amichetto dov'era Eccolo il nostro amichetto Vai John Brighadio che stai cazza Brighadio che stai scontrollando Brighadio Brighadio Potagona Promette bene ragazzi Il titolo promette benissimo Attento Mamma mia Guardate come ho fatto il botto Perché gli guardi il pacco Mamma mia Schifo E così scappiamo Basta con queste schegge Ma è morto Non mi dica è morto Come on Mamma mia Mamma mia Siamo arrivati impiegliati a qualcosa O semplicemente siamo caduti giù De brutto Aereo della base sovrana di De Kelia Cipro Ok lui O è O è uscito dalla macchina così Perché gli annava Dei farsi una sigaretta O perché Mentre cadevamo O perché Mentre cadevamo Scusate stavo guardando un'ottima cosa O perché Mentre cadevamo È volato da fuori Buon che parole Mamma mia Che Un pene Wow Tutto bello Tutto bello Regà Tutto bello Adesso arriva anche Ghost Rider Ma chi è Oselot Vai cazzo Ragazzi vuole questo episodio Dica che se sto dilungando un bel po' Che si può fare Ok Ehm No Quando si avvicina Lo colpiamo Regà Stavo dicendo Questo Anche questo episodio Si sta Dilungando parecchio Adesso si toglie Ok Quindi Appena troviamo una fase Che non è tipo questa No Sto dilungando Tanto Oddio Cattemattivo È così Ragazzi Settembre È un mese Pazzesco Per uscire Già Antidorm Che però Ehm Vabbè non è uscito proprio Settembre Però Già Antidorm Che sto giocando con la mia ragazza Finima di tutto Poi lo posterò anche su Sul canale Sul canale Aspetta dov'è No non l'ho beccato Ma che sei minato Se quello è furbo Mamma mia È furbissimo Sto dicendo Anche il torna Ehm Sto gioando con la mia ragazza Quindi Ehm Appena avrò finito quello Sta fuggendo troppo Ok Il salvataggio Quindi Ehm Sto girando La stagione Quindi appena avrò finito con lei Ehm Che sarò sul canale Con un'altra Da cap Insomma Tanto in base alle scelte Cambia senso Quindi È uguale Poi abbiamo FIFA Tornerà FIFA E' tempo l'opesso Sicuramente anche Perché è migliorato tanto Quindi Sporzeremo un bel Un bel po' di soldi Però Morrà la pena Secondo me Che questo giro Sicuramente Ok Ok Quindi Diciamo il primo episodio Il prologo E' finito Io direi di Ehm No Aspetta Andiamo un attimo avanti Così Così vediamo anche Insieme Eroismo Poi vedremo anche A cosa servono Questi punti Questi punti Eroismo Poi vediamo Andiamo avanti Ci sarà una fase Del gioco Dove lui Non deve per forza Essere morto Bele Sono curioso Di sapere chi è Come al solito Il nome di Di Kojima Deve stare Da tutte le parti Ogni missione Ci deve stare vicino Ehm Eppure giusto Ragazzi Il nome è Oselot Big boss Svegli chi sono E' lui E' Oselot Cazzo Lo sapevo Dio mio Io si Anche l'atmosfera La musica E' assurda Grande Grande Cazzo Quattro anni fa, i sovietsi invadono l'Afghanistan. I muslimi stanno combattere con l'esterno supporto. Miller era allenato a Mujahideen, quando gli sovietsi era capturato. Il Red's 40th Armato. Trope di potenza di circa 100,000. La squadra che Miller si tratta da l'esterno a l'esterno di Pakistan. In tre giorni, i sovietsi di garrisono. L'esterno di interrogete per qualche giornata, e si tratta di un luogo, oi si tratta di garrisono di l'esterno di l'esterno di Afghana. L'esterno di due settembre. L'esterno non significa nulla, Miller. L'esterno si tratta di mantenere a tutti. Wow. Ah! Ah! Bello 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 Grande idea Ok io direi così che Ci possiamo lasciare Possiamo vederci Al prossimo episodio Non vedo l'ora di giocarlo Non so se lo farò adesso perché Si è fatta anche una certa ora Però sono tentato Ci vediamo al prossimo episodio Bella regà con la vendetta Grazie a tutti i nostri spettatori